bella tutti signori e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti signori alla conquista del mondo quantomeno ci proviamo intanto a guadagnarci una promozione quest'anno che già sarebbe manna dal cielo il primo la prima stagione riuscire a salire già in league one league one saliremmo si salirebbe league one la scalata ancora è lunga ma se non sono non si parte non raggiunge assolutamente un tubo detto questo signori prima di partire il video vi ricordo iscrivetevi al canale vi ringrazio per i commenti per i suggerimenti e per il supporto che da dalla serie e al canale vi ricordo di seguirmi sui social mi trovate come maullo 941 sia su instagram che su facebook dove vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live perché sia su questa piattaforma che su quella viola perché anche su quella mi trovate come maullo 941 e anche su quello ogni tanto facciamo delle live che potrebbero tornare più spesso tra un paio di giorni detto questo signori non ho altre info da darvi a parte augurarvi un buon natale perché questo video dovrebbe uscire il 24 se non ricordo male quindi una buona vigilia di natale a tutti quanti signori e partiamo con il video ok allora allora andiamo alla partita contro quelli lì che non so chi siano che cosa bellissima giocare contro squadre di cui non si ricorda il nome è una cosa bellissima signori non ho mai non ho mai frequentato la league 2 del campionato inglese a parte l'anno scorso ma non c'era un allenamento non l'avamo fatto contro loro hallowgate perfetto contro laura che prima di partire con la rogate però nei commenti signori il mio allenatore in seconda french che ringrazio sempre per tutti i consigli che mi dà oltre a tutti quanti quegli altri mi danno i consigli e mi ha detto di modificare il nostro benjamin barrett lui esterno sinistro farlo diventare un esterno destro così eventualmente dovrebbe migliorare il suo piano di crescita e soprattutto dovremmo ritrovarci due settimane successivamente quando salivano andrà via l'anno prossimo lo promuoviamo e ci dovremmo trovare bello pronto e carico per fare il suo esordio tra l'altro tutti gli altri già li stiamo scambiando cc ad sta diventando una tt atti sta diventando una tt va bene va bene va bene va bene signori allora contro questi facciamo giocare facciamo giocare i titolari no 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 facciano giocare titolari signori perché dobbiamo un attimo iniziare a vincere qualche partita perché qua la classifica si sta un attimo allungando pericolosamente simuliamo tutto bella maglietta c'hanno quelli dell'argate orgate che c'è famo due a due ma parca di una paletta ambriaca ci abbiamo pareggiato due due l'hanno pareggiato allora l'ottantaseiesimo dai ma che sfiga l'hanno pareggiato allora l'ottanta della vinceva ma non siamo riusciti a tenere un risultato signori non siamo riusciti a tenere un risultato mannaggia loro va bene va bene va bene siamo quarti con due partite in più rispetto al colchester ottimo una partita in meno rispetto al botton che il dietro di noi buono buono ok siamo in zona buona siamo in una zona buona e tranquilla andiamo avanti con gli allenamenti questi li hanno fatti sì quindi fa questi allenamenti farli tutte belle a che cosa carina e andiamo avanti signori andiamo avanti qual è la prossima partita della giornata ancora allenamenti porca miseria quanti allenamenti facciamo dai 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 forza 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 rapido veloce in dolore eccola lì la prossima partita di campionato il 13 marzo tanto zitti zitti stiamo completando la prima stagione signori queste abbiamo fatti pure simula tutto taglia così andiamo avanti prossima partita il giorno 13 di marzo signori contro una squadra che non conoscono non riconosco noi continuiamo a essere quarti ok siamo a due punti dal calteram che sopra di noi ha stesse partite col cester ha sempre una partita in meno e salt for city ormai se n'è andato la niente ci ha salutato già sta il liguan il star for city va bene allora aspettate un attimo questa la facciamo giocare ancora ai titolari la facciamo giocare ancora ai titolari signori dai così calma sangue calma e sangue freddo dai dai io credo in voi signori io credo in voi in dove siamo noi a destra sto con le smith sullivan wild in canon giardino harry lavello davis e mellor in porta holstead dai signori dai signori io credo in voi io credo in voi partiamo tre punti a casa signori e dai che che buon natale a tutti che buon natale a tutti signor altro pareggio che non ci serve a nulla dai la pareggiamo questa volta noi con giardino al 52esimo ma porca di una paletta ambriaca stiamo perdendo punti come se non ci fossero domani non va bene questa cosa è tornata la pareggite signori è tornata la pareggite abbiamo cambiato il gioco è passato un anno ma è tornata la pareggite per tornata pesante ricolosamente la pareggite volto nel forest green hanno una partita in più ok quindi praticamente siamo qua il quarto posto per ora è assicurato ma ma non possiamo stare sugli arlori signori non possiamo stare sugli arlori qua il morecambe deve un attimino svegliarsi e riprendersi ca facciamo sempre allenamenti miglioriamo ma facciamo schifo in campionato pesantemente dai dai giochiamo l'ultima partita della giornata dai dai contro layton signori sono in layton e layton quello lì penso di sì penso che sia layton e layton e layton la prossima partita in layton e layton e layton scotto ha completato il aspetto ma dove arriviamo alla partita e poi completiamo il cambio di ruolo di scott di scottex del nostro scottex no non me lo fa farmi di faf ma che signora chi se ne frega dalla conferenza stampa giochiamo con i panchinari signori diamo un turno ai panchinari diamo un turno ai panchinari diamo fiducia al campionario hanno contro il charles lee il charles lee non era layton nel charles lee siamo in casa signori lo concludiamo quantomeno con con una vittoria sto video una vittoria portiamo tre punti a casa no niente due a due ma ma se l'hai spulso ma dai ma dai va se l'hai spulso tre partite tre pareggi come perdere ma no il treno della promozione signori il treno dei playoff col cesta era pure perso ma porca con una partita siamo sempre quarti siamo sempre quarti abbiamo una partita in più rispetto al bolton al forest e abbiamo una partita in più rispetto a col cester che sopra noi ho quattro punti niente mamma mia andiamo a completare questo cambio di ruolo signori niente la pareggita è tornata cambio di ruolo ok lui è diventato un attaccante cambio di ruolo dentro un attaccante tutti gli effetti tutto è creato ok scott ex è diventato e anche barrett è pronto per diventare un esterno destra bravo barrett cambia di ruolo da esterno sinistro a esterno destra perfetto continua di allenare così barrett mia che l'anno prossimo sarà uno dei nostri titolari inamovibili va bene signori detto questo io vi ringrazio questo video vi ringrazio per la che per i commenti per i suggerimenti e per il supporto i nostri campionetti continuano la loro la loro spedizione verso i playoff sperando di arrivarci prima possibile e niente detto questo noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao